Ciao Buster! Cosa c'è su quel cartellone? Un camion dei pompieri! È sicuramente molto eccitante, vero? Guarda, è Ashley! Il camion dei pompieri! Penso che Buster voglia unirsi ai vigili del fuoco! Forza Buster! Devi prepararti per il tuo primo giorno di lavoro! Solo alcune piccole modifiche e... Wow, guarda! Buster è un vero camion dei pompieri! Ha la scala, la sirena e il tubo per l'acqua! Oh oh, l'allarme! C'è un incendio in corso! Ashley deve andare a occuparsene! Tu stai qui, Buster! Ehi, è Tony il furgone! Attento alla pozzanghera! Oh no! Oh no! La scatola che è caduta! Ha piccato un incendio! Alla caserma dei pompieri! Cosa possiamo fare? Presto, Buster, il camion dei pompieri! Spegni quell'incendio! Oh oh! Il fuoco si è diffuso fino al tetto! Continua a sparare acqua, Buster! Urrà! Robin è venuto ad aiutarci! Ed è tornata anche Ashley! Potete farcela se lavorate insieme! Due camion dei pompieri sono meglio di uno! Phew! Finalmente il fuoco si è spento! Bel lavoro, Buster e Ashley! Guarda! È di nuovo quel cartellone! Aspetta un attimo! Ora c'è Buster sul cartellone! Wow! Sei un vero eroe, Buster!